In Ucraina continuano le evacuazioni dai territori sotto controllo russo. Un flusso costante di sfollati arriva in un centro allestito nella città meridionale di Zaporiza. Molti sono rimasti giorni interi per strada, in attesa e posto di blocco prima di poter passare. Abbiamo aspettato tre giorni a Vasilivska, a un posto di blocco russo, racconta Svetlana, da Volnovanka. Grazie a Dio oggi siamo qui, ora va tutto bene. Le domande erano del tipo, dove state andando? All'inizio, quando ci hanno fermati sul ponte Antonovski, abbiamo detto che stavamo andando nella regione di Kherson per rilassarci, dice Andrei Moroz da Kherson. Poi abbiamo cambiato la nostra versione, abbiamo detto che stavamo andando a Zaporizia. Il tipo di domande che ci venivano fatte è, dove lavorate o dove studiate? Avete fatto il servizio militare o non l'avete fatto? Arrivano decine di auto ogni giorno da diverse regioni, negli ultimi giorni molte anche da Mariupol. Non fuggono solo dai russi, ormai concentrati a est, ma anche dalle città in rovina. Grazie. 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 Grazie.